Buongiorno, sono lo chef Stefano Dellerorio. Oggi vi propongo una caprese di mozzarella di bufala campana e 4 pomodori. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 mozzarella di bufala a sapore di intorni conad 1 cucchiaio di capperi sotto sale Basilico 2 pomodori costoluti 2 pomodori d'atterini rossi 1 confezione di pomodori d'atterini gialli di sapori di intorni conad 2 pomodori camone 2 cucchiai di olive di gaeta 2 fette di pane Olio per friggere quanto basta Olio extravergine di oliva quanto basta Qualche fiore edulo Sale quanto basta Iniziamo la preparazione della ricetta partendo dai nostri pomodori Nel frattempo ho già messo a scaldare Per friggere usare olio di semi di arachide Quindi iniziamo a portarlo in temperatura Passiamo con i nostri pomodori E andiamo a tagliarli Quindi costoluto Andiamo a ricavare delle fettine Lo scaviamo leggermente Facciamo lo stesso con i pomodori grappolo Ovviamente sono già stati lavati precedentemente Lo stesso con il pomodoro sardo Questa è una versione Che ha preso è un po' diversa Può essere anche un'idea Come Un'idea come finger food Come un'idea per un aperitivo Per il pomodoro camone Vado a tenere la parte con i semi Vado a tagliarli a striscioline Si toglie anche un po' i dadini Tanto per dare delle forme anche un po' diverse al piatto Nel frattempo gli metto Delle foglie di basilico spezzato Meglio a mano Un pizzico di sale E dell'olio extravergine di oliva In modo che L'olio in conduttore Andrà a condurre un po' tutti i profumi E insaporire i nostri pomodori Fatto questo E teniamo da parte Controlliamo nel frattempo l'olio Ci siamo quasi Prendiamo i datterini gialli E li andiamo a frullare Con tutta la loro acqua Ok Il pomodoro giallo Io tendenzialmente lo uso Spesso anche con il pesce Cerco di non Andargli a insaporire con altri aromi Perché è già buono di suo Soprattutto in questo caso Vorrei lasciarlo il più purezza possibile Quindi prendo un colino E vado a passare In modo da togliere eventuali semi O buccia Con l'aiuto di un cucchiaio Lo setaccio E vado a leggermente intiepidire Questo anche perché Avremo così nel piatto Delle consistenze diverse E anche un gioco tra Ingredienti freddi O temperatura ambiente e caldi Nel frattempo Reproviamo il pane Perché l'olio è caldo Quindi tiriamo via La parte della crosta Che è un po' più dura E lo tagliamo a dadini Piuttosto uniformi Ok, per il nostro piatto È sufficiente Inseriamo il nostro pane Aggiungiamo la nostra salsa di datterini Giusto un filo d'olio In modo da emulsionare bene la salsa Ok, la facciamo andare Controlliamo il pane Lo scoliamo per bene Abbassiamo leggermente la temperatura Nello stesso olio Io ho già dissalato dei cappiari Li ho già messi in acqua E gli ho tolto il sale in eccesso Li ho tamponati bene Per togliere l'acqua Che hanno assorbito E li faccio friggere Nell'olio dove abbiamo Praticamente fritto il pane Scoliamo Adesso man mano che si raffredderanno Diventeranno belli croccanti E daranno anche la parte un po' salina al piatto Teniamo da parte Prendiamo un altro bicchiere di un frullatore Prendiamo la mozzarella E la spacchiamo con le mani Questo perché voglio tenere una parte interna Con i propri filamenti Insomma la parte tutta più ricca di latte Intera E il resto invece andremo a frullarla In modo da avere comunque la mozzarella Con due consistenze diverse Iniziamo a frullare la mozzarella Aggiungiamo giusto un filo d'olio E frulliamo Nel caso come in questo caso Ovviamente risultasse un po' troppo dura Io aggiungo dell'acqua frizzante Fredda In modo da evitare di aggiungere Oltre la latte o panna E avere la mozzarella Più pura possibile Bene Ci snoccioliamo qualche oliva di gaeta E andiamo a comporre il piatto Quindi prendo il mio piatto in portata Riprendo tutti gli ingredienti E iniziamo Quindi versiamo sulla base del piatto La nostra crema di mozzarella Che risulterà particolarmente spumosa Poi aggiungiamo la parte di mozzarella Per una tenuta sfilacciata Andiamo a inserire un po' di crema di datterini I pomodori Che abbiamo precedentemente tagliato Come dicevo prima Anche carina servita in un bicchiere Ma magari fatta a strati Ultimiamo con qualche cappero Dai costini di pane Le olive Magari le arrotoliamo nuovamente In modo da far finta che siano ancora intere Finiamo con qualche fiore edulo Qualche foglione di basilico Che ovviamente non sarebbe una caprese senza basilico Un filo d'olio Il piatto è pronto Buon appetito Grazie a tutti